Tizio cita in giudizio Caio, proprietario dell'appartamento del piano superiore, per chiedere i danni da infiltrazioni. A seguito del sopralluogo nell'abitazione di Tizio, il CTU ritiene che le pareti siano effettivamente danneggiate, ma non si riscontrano perdite d'acqua dalla proprietà del convenuto. A questo punto, per fare chiarezza, il giudice potrebbe ordinare l'ispezione dell'appartamento di Caio per accertarsi definitivamente se le infiltrazioni provengono da quella abitazione o abbiano altra origine. Perché il giudice possa disporre un'ispezione occorre che l'attività di osservazione sia indispensabile ai fini della decisione. Non ci sia altro modo di acquisire in giudizio l'informazione che con l'ispezione si otterrebbe. Se infatti gli stessi fatti o gli stessi dati fossero acquisibili diversamente, ad esempio mediante documentazione, foto, video, registrazioni audio, non si potrebbe dar luogo alcuna ispezione. 3. Infine, non si deve arrecare un grave danno alla persona che si fa l'ispezione stessa.